In questi anni, impropriamente, si è parlato di una contrapposizione tra politica e magistratura. Al contrario, la NM si riconosce nei principi di leale collaborazione di reciproco rispetto tra le istituzioni e il terreno di scontro sul quale in molti hanno cercato di trascinarla non le appartiene. Il nostro non è un ruolo di avversari. Continua a mancare un'organica e razionale riforma della giustizia. Abbiamo assistito, infatti, a una serie di interventi episodici e contingenti, dettati dall'esigenza di risolvere situazioni legate a singole vicende processuali e mirate a limitare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ciò è avvenuto in occasione delle annunciate riforme costituzionali in materia di separazione delle carriere, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale e di CSM, nonché in occasione di non meno insidiosi progetti di legge ordinaria in materia di intercettazioni, di processo breve e di polizia giudiziaria svincolata dal PM.